Potete scaricare il template del conigliato dal mio blog che si trova all'interno del mio sito. Prendete delle forbici e ritagliate tutte le parti del template. Ritagliate del cartoncino a milla che dovrà misurare 26x13 e piegateli in due. Posizionate il corpo del coniglietto in questa maniera in modo da ottenere l'apertura del biglietto. Con delle forbici andate a ritagliare la farba. Prendete dell'altro cartoncino a milla e disegnateci sopra le altre sagome del template. Ora con delle forbici procedete al ritaglio. Prendete la carta scrap che potete scaricare dal mio blog e riportateci sopra il corpo del coniglietto e ritagliate dopo l'immagine e ritagliate. Prendete la carta che è ottenuta. Ok. Grazie a tutti. Con della colla e stick incollate la carta scrap alla sagoma in cartuccino. Con un righello e un putter eliminate il pezzettino d'eccesso. Ora, con un tratto pen nero, andate a disegnare il faccino del coniglietto. Prendete le zampette e con l'aiuto di un bulino e un righello bulinate l'estremità superiore delle zampette. Incollate le zampette del corpo con del nastro biadesivo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per creare le orecchie del coniglietto, aiutatevi con una penna tonda, semplicemente arrotolando il cartuccino alla penna. Otterrete così delle simpatiche orecchiette. Con l'aiuto di un biadesivo in roll, andate a cercare la penna tonda, semplicemente arrotolando la penna tonda, semplicemente arrotolando la penna tonda. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.